Sono sempre io ragazzi, sono il vostro amico Gabri Costa, statemi a sentire, in questo gioco della PS4 Marvel Spider-Man, visto che siamo al Central Park, dobbiamo fare una sfida di Taskmaster, bisogna fare questa sfida di combattimento, anche se io l'ho già completata vincendo i tre gettoni, posso anche rigiocarla questa sfida. Ricordatevi che noi siamo qui per divertirci, vincere non è importante. Dobbiamo agire in fretta ragazzi, che ha la svelta. Facciamoli fuori tutti i criminali e salviamo l'ostaggio. Ricordatevi che i puntini rossi sono i nemici. Fatemi sapere cosa ne pensate del video nei commenti qui sotto, se vi sta piacendo. Quando c'è il potenziamento, premere subito triangolo più cerchio. Abbiamo già finito. Spero vi sia piaciuta questa sfida che era ambientata al Central Park. Bene, grazie a tutti per la visione, noi ci vediamo alla prossima, un ciao da Gabriel Osta, grazie per avermi seguito. Sono molto felice e contento per voi. Seguitemi sempre ogni video recensisco e poi fidatevi di me, io ho sempre detto le ose come stanno.